Scusa, mi sei mi... Fai con la mamma, anche io la provo. Vai tanto. Ah, le ciappate a canzone. Bella canzone. Mi sta pazzo. Questa canzone ha ragione, bellissima. Bravo, come ti chiami? Mi spongo. Scusa ha fatto una domanda. Eh, mamma. No, io le parlo. Eh, lo so, signora. È molto a mente concentrata. Scusa, a noi mi stiamo sempre con la telecamera. Perché lui fa molto... Ti piace? Eh, sì. Ti piace? Lì fa molto mediato, parla artistico. Però lì crea proprio... Scusa. 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 Scusa, non puoi fare la ripesa. Ah, doni, non puoi fare la ripesa, doni. Non puoi fare la ripesa, doni. Non puoi fare la ripesa, doni. Va con il treno. Il treno. Se la canzone però finirsi la va. Ma dove andiamo? Andiamo. Anche se andiamo in un negozio. Di salano. Lui faceva quindi signora. Si sbagliate. Ma lì va da me che è benviuto. Bene, adesso noi dobbiamo andare. Perché stanno le persone, andate. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì.